Quella di mercoledì 4 marzo è stata una giornata complicata, con notizie che si sono susseguite in modo convulso dal mattino fino alla sera. Verso le 14 una nota del Lanza segnalava che il governo aveva deciso la chiusura delle scuole fino alla metà di marzo, ma poco dopo la ministra Azzolina faceva sapere che non c'era ancora nulla di sicuro. Le prime certezze si sono avute nel tardo pomeriggio, ma con un piccolo giallo. Mentre Conte parlava di chiusura delle scuole, nella conferenza stampa ufficiale Azzolina spiegava invece che si trattava di interruzione delle attività didattiche. Anche il segretario della CGL Maurizio Landini ha dato una mano a rendere poco chiara la comunicazione. Al termine dell'incontro fra governo e sindacati il leader della CGL ha detto che le attività didattiche saranno sospese, ma che amministrativi e docenti saranno comunque a scuola. Per la verità, proprio nella giornata di mercoledì la questione si è complicata parecchio, anche a causa di un passaggio inserito nel testo del decreto del Presidente del Consiglio. Nel provvedimento si parla infatti di sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui sia coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. E questa formula ha fatto dire a molti che a questo punto sono sospese anche le riunioni dei collegi dei docenti. Ma a parte il dilemma collegi sì, collegi no, diversi altri problemi restano aperti, a partire dalla presenza a scuola del personale ATA, che viene vivacemente contestata dal personale interessato, oltre che dai sindacati di base come USB, Unicobas, Federata. L'USB, in un proprio comunicato, sottolinea con evidente sarcasmo che il decreto del Presidente Conte dimostra che amministrativi e collaboratori scolastici sono liberi di infettarsi, mentre Unicobas parla di azioni legali contro l'amministrazione nel caso in cui un'ATA dovesse contagiarsi a scuola. La sospensione delle elezioni provocherà certamente non poche difficoltà alle famiglie e proprio per questo il Governo ha assicurato che sono allo studio misure per sostenere i genitori. Si sta pensando a congedi parentali o a contributi economici per poter accudire i figli. Un altro problema che la Ministra Azzolina dovrà affrontare riguarda la definizione della data di chiusura delle elezioni, poiché da più parti si sta chiedendo di recuperare nel mese di giugno almeno una parte dei giorni che si stanno perdendo. Operazione non impossibile ma molto difficile perché potrebbe essere necessario spostare anche le date degli esami di Stato ed è anche per questo che si sta prospettando l'idea alternativa di ridurre o addirittura cancellare le vacanze pasquali. Nella giornata del 4 marzo il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione avrebbe dovuto esprimersi in merito ai bandi dei concorsi previsti dal decreto scuola e da emanarsi entro il 30 aprile. Ma la seduta del CSP non si è svolta a causa della mancanza del numero legale. Un problema in più per la Ministra Azzolina alla quale sta toccando il compito di gestire una delle emergenze più delicate che la scuola abbia dovuto affrontare negli ultimi decenni. Sul tema ovviamente continueremo a tenervi informati sia su questo canale sia nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it continuate a seguirci, continuate a scriverci, mandarci le vostre osservazioni, i vostri commenti, le vostre esperienze, ne daremo conto come sempre. Grazie a tutti.